Sì, noi avevamo solo un risultato, quello di provare a vincere per cercare di scalare un po' la classifica. Come ho detto nelle scuole settimane, ormai la salvezza è acquisita e dobbiamo giocare con la testa libera. Oggi le ragazze erano un po' frenate il primo tempo e devo ammettere che la Roma ha fatto una signora partita, è andata in vantaggio meritatamente e quindi questo tanto di cappello è loro. Mentre il secondo tempo ho visto una grandissima reazione da parte della mia squadra, abbiamo creato 4-5 palle gol, potevamo pareggiarla e purtroppo anche oggi andiamo via senza punti, con tanti complimenti ma senza punti. Questo dispiace perché le ragazze si applicano, le ragazze come ripeto spesso durante la settimana danno sempre al massimo e quindi dispiace per loro vederle un po' abbattute. Però la strada è ancora lunga, dobbiamo andare avanti. Ora abbiamo un turno di Coppa mercoledì importante che dobbiamo cercare di passare il turno perché sarebbe, entraremo un po' nella storia del Sassuolo, il passaggio del turno e acquisire la semifinale contro molto probabilmente la Juventus e quindi dobbiamo cercare di andare avanti. Sì, ci stiamo lavorando tanto, purtroppo per fortuna, perché io apprezzo molto quello che viene sempre fatto da loro, lavoriamo tanto sulla fase offensiva perché ho visto che nel reparto difensivo siamo belli solidi e concentrate. Magari dobbiamo lavorare un po' di più per andare ai cross sugli esterni e per la finalizzazione come hai detto te giustamente per l'ultimo passaggio. Quindi cercheremo sempre di andare avanti su questa linea, non dobbiamo cambiare niente perché fino adesso abbiamo fatto un percorso importante e dobbiamo continuare a testa alta e essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino adesso. Sì, sono via parecchie giocatrici, sia straniere che italiane, quindi cercheremo di lavorare con quelle che abbiamo a disposizione, cercheremo di organizzare anche delle amichevoli se riusciamo a trovarne perché per loro, in questo caso per chi sta giocando un po' meno, è molto importante trovare anche i 90 minuti. Penso che meritavamo di più, che siamo una buona squadra ma contro le grandi squadre non riusciamo a fare risultato e penso che è una cosa su cui dobbiamo lavorare. L'esperienza che manca è che magari non siamo abbastanza tranquilli per giocare una partita come si deve per fare punti anche contro le squadre più grandi. Sì, l'ultimo passaggio che parlo per me è che devo migliorare. No, io penso che abbiamo giocato tante palle lunghe dove a volte dobbiamo giocare anche uno o due tocchi al centro campo, dalla difesa, un po' più tranquilli invece di fare sempre le palle lunghe. Nel primo anno sto giocando un po', poco diciamo, però ci sta perché ci sono le ragazze che magari hanno più esperienza di me e io continuo a lavorare e sto tranquilla che l'unica cosa che posso fare è lavorare.